Paolo Valagussa e il desiderio, Alessandro Bruno una possibilità più che concreta. Il centrocampo del Teramo presto potrebbe avere una fisionomia molto diversa e subire per primo quella rifondazione che molti si aspettano. Ci vorranno le uscite prima, le entrate verranno successivamente, anche se nelle ultime ore la strategia potrebbe ribaltarsi. Il centrocampista lo scorso anno al Gubbio è in cima alla lista dei desideri di Antonino Asta, più di Davi della Feralpi Salò. Valagussa peraltro piace e come anche a Giorgio Repetto che lo seguì qualche stagione fa e che avrebbe potuto portare anche a Pescara. Dunque è lui il primo obiettivo di mercato, posto che nella collaborazione con Pescara gli arrivi dalla casa biancazzurra saranno certamente meno complicati. Le insicurezze maggiori sono nel reparto arretrato perché Caidi, Speranza e Altobelli rimarranno in bianco-rosso e di conseguenza la difesa potrebbe subire, a differenza degli altri reparti da rifondare totalmente, solo un restyling, anche se sostanzioso. Mancano gli esterni, allora ecco che Ventola proprio dal Pescara potrebbe fare al caso del diavolo, e mancano i ricambi dei due titolarissimi. Ma sono questioni che Repetto affronterà con calma perché le priorità adesso sono le altre zone del campo, quelle sotto la lente di ingrandimento. Probabile che in pochi si salveranno da questa mezza o totale rivoluzione. Anche chi, come Amadio e Di Paolo Antonio, sembravano poter far parte della rosa della prossima stagione. Con Sanzovini si cercherà un accordo per trovare la strada migliore sia per il ragazzo che per la società. È evidente che non abbia sfondato soprattutto nel cuore della tifoseria. E la questione ambientale l'anno prossimo sarà fondamentale per una squadra che ha come primo obiettivo assoluto la salvezza e che avrà bisogno della vicinanza della propria tifoseria per sostenere anche quelle settimane nelle quali arriveranno delle sconfitte. Questione ritiro, il 19 luglio con ogni probabilità via la preparazione precampionato dal Fedena ma c'è la possibilità che il raduno possa essere anticipato di due giorni, dal 17 fino al 31 luglio. Per l'inizio del ritiro è evidente che Asta dovrà barcamenarsi con una rosa che poi non sarà quella definitiva. Lavorare su quei giocatori nuovi che saranno già a sua disposizione e su quelli che c'erano anche la stagione passata per cercare magari di ritrovarne la migliore condizione, soprattutto psicologica.